Direttore Flacco, c'è un problema a liste di attese in alcuni reparti, sia a Chieti che a Vasto, come si può risolvere? In particolar modo le liste di attese probabilmente ci riferiamo all'area chirurgica, nello specifico probabilmente qui a Vasto per quanto riguarda l'urologia. La problematica si sa, in questo momento la scarsità di anestesisti nell'ambito dell'unità operativa, nell'ambito del mese di dicembre sicuramente arriveranno due anestesisti a Vasto e questa problematica contiamo che sarà molto ridotta. Possiamo rassicurare i malati di tumore che hanno liste di attese bloccati al 2016? Assolutamente sì, sicuramente con questo innesto di questi due professionisti le liste d'attese si ridurranno, ma già il fatto stesso di aver tenuto l'urologia su Vasto ritengo che sia una situazione molto positiva per questa cittadina. Grazie a tutti!